Allora, non si possono fare foto E' bellissimo Allora, non si possono fare foto Non fare video Le spille No, il quinto anniversario Bellissimo quell'Age Cruz Le teste Ma come per fare la doccia è il migliore Non potrò mai prendere per la valigia ma è il migliore No, 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 lo so, lo so Ce l'ho, ce l'ho E questo lo vendono sicuro adesso Le mappe di caricamento prima del gioco C'è della roba ragazzi che vi faccio vedere adesso qui E' la cassa con i beni che... Sì, 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 apri Ci sono le boccette Ci sono le calze ma anche quel tipo di scorta Prima della battaglia Guarda che sta da Dio, guarda qua Io voglio vivere qua Io voglio vivere qua Mi guardano Mi guardano Mi guardano, come fanno a dimostrare che sto facendo qualcosa Voi dovete sapere Ecco, la telecamera sulla pancia E la sto girando io un po' così Non guardare sulla sinistra No, ho già visto anche sulla sinistra Non avevo visto quello E come volevi? Avevo visto i manichini Porca di quella puttana Si può fare la foto? No, io voglio questo Ok, ora lo vedete anche voi, lo voglio in camera Lo zoom Perfetto Ma Valentina è bellissimo Allora, Monster Hunter è uno dei miei 5 miei giochi preferiti Quando esce un Monster Hunter E' uno di quei 5 giochi che vado fuori di testa Zelda Dragon Quest Pokemon Monster Hunter Poi ci possiamo mettere Per metterci in uno dei rastronici Metto dentro Ratchet E quella fascia di giochi E quella fascia di giochi Per fare alfanti E quella serie di giochi Per la quale C'è uno che comincia a giocarci E' finita E' finita Perfetto Comunque Lo scrigno è magico Allora, per l'ingresso Non so se l'ingresso comprende il pranzo E' 1500 yen Ma spesi benissimo Porca Io sapevo che c'era da mangiare Ma non sapevo che c'era il La mostra Perfetto Grazie Posso fare la foto Ok Questa Posso fargli la foto Me l'hanno concesso Ho fatto un book Vi giuro E' bellissimo Io ho questa fibro tipo Su un comodino Ma immaginatevi trovare Grandezza uno a uno Immaginatevi trovarlo davanti Io amo il Giappone Io amo Tokyo Ok Volevo fare ancora un minuto Perché veramente Guardate Guardate i cartigli Bellissimo E c'è ancora tanta bella roba da vedere Passiamo sotto per non disturbare nessuno Allora, si può giocare Ma a noi non ci interessa Ma a noi ci interessano questi I vestiti di Mostra Le armi Oh cazzo Oh cazzo Guardate Le armi Nooo Posso farmi la foto con lo barbecue Andiamo in ordine Eh infatti Troppe cose Troppe cose E poi Poi per mangiare Ehm Boh Ah no Diva C'è destra e sinistra C'è il mondo Allora Partiamo con Scudo Lancia Veramente Guarda che sono enormi Sì Scala 1-1-1 Avevo visto un video dell'Universal Studios che avevano fatto una cosa simile E' vero Ed ero impazzito perché volevo andarci Poi ho scoperto che aveva chiuso E invece che tipo C'era Ratlas che muoveva le ali E la bocca Cioè ero Ero diventato scemo Ecco questa la vorrei Per giocarci all'inizio del gioco Ero appena che qualcosa uccidi tutti No No Mi ha dato che troppo Poi Ma Dici che le vendono Si Guarda Un piatto No Non speranze Per via Sono sbagliato Che erano la Che hanno spostato 23 gennaio 2015 Sono già contento che non li buttano sta roba via addirittura vedo una moto sarà prima un ratlass o così cazzo l'ho visto ora voi immaginatevi col piccone e sbam, spunta lui no voglio farlo anch'io no no devo farlo anch'io è bellissimo sto posto devo fare anch'io la foto mentre faccio il barbecue guardate il fuoco ci vede, le luci ci sono veramente o quando puoi fare le foto, no la facciamo insieme carellata di tutti i mostri guardate il mio preferito bam illagia Cruz si forte, fortissimo verso gli investi cazzi questa è una bella attenzione, attenzione cos'è? premi vai premi il primo vai 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 di nuovo abbiamo fatto ridere abbiamo fatto ridere in mezzo la fumazione giapponese guarda che se sapevo che c'era un museo ecco, anche una figure così di una scaglia, di un unghie, di un ratlass ma sai quanto la venderesti? una cosa così attaccata al muro sono quelle cose che non hanno prezzo la normal porca puttana la mattina guarda? 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 bra Россprom Iscriviti alla pagina Facebook Perfetto